In provincia di Como si contano 15.639 imprese artigiane. Il dato più recente, aggiornato a settembre 2017, è stato diffuso oggi dalla Camera di Commercio. I comaschi rappresentano il 6,3% del totale delle imprese artigiane lombarde. In provincia di Como più di un'impresa su tre è artigiana. È una percentuale decisamente alta, spiegano dalla Camera di Commercio di Como, tanto che un'unica provincia registra un'incidenza ancora maggiore, è l'ECCO, con 37,5% di imprese artigiane. La media lombarda è ben più bassa, 30,3%, a causa della specificità di Milano, che infatti conta solo 23 imprese artigiane ogni 100. È proprio questa tuttavia la provincia che conta in valori assoluti il numero più alto di unità, 68.808, il 36,6% di tutte quelle presenti in Lombardia. Sempre secondo l'analisi della Camera di Commercio di Como, in un anno, da settembre 2016 a settembre 2017, le ditte artigiane comasche sono calate di 203 unità, pari all'1,3%, una diminuzione superiore a quella lombarda, meno 0,7%, solamente a Milano il saldo è positivo. Per quanto riguarda i settori di riferimento, il 39% delle imprese artigiane comasche è attivo nel settore delle costruzioni. Segue il manifatturiero, con il 25%, quindi le altre attività di servizi, con il 12%, in particolare servizi alla persona, parrucchieri, estetisti, lavanderie, e le attività di noleggio, agenzie di agio e supporto alle imprese, servizi di pulizia, giardinaggio, i variegati servizi di supporto alle funzioni di ufficio, con il 6%. Nel commercio opera un altro 5,5% del totale e nei trasporti e magazzinaggio il 4,5%.